Giù le mani da Asnu, è questo lo slogan con cui l'Archivio di Stato di Nuoro si inserisce negli eventi di Archivissima, la quattro giorni nazionale dedicata alla testimonianza di tutto ciò che gli Archivi di Stato fanno per tutelare e conservare la memoria storica. E l'Archivio di Stato di Nuoro, ieri pomeriggio, ha iniziato le celebrazioni nella notte degli Archivi, primo evento del Festival, proprio dai suoi spazi esterni. Uno spiazzo anonimo che non preannuncia l'enorme valore di quello che si può trovare al di là delle vetrate, ma che mai come adesso, con l'Archivio di Stato di Nuoro fortemente sottodimensionato, va presidiato per ricordare quanto sia importante per il territorio che la sede di Nuoro resti aperta. Il tema di Archivissima della Festival è Generazioni, ma il titolo che abbiamo voluto dare noi è A chi passeremo il testimone? Perché effettivamente si è un po' interrotto il passaggio, questa staffetta generazionale, il passaggio del testimone che noi idealmente rappresentiamo alle nuove generazioni. Le nuove generazioni faticano ad entrare nel mondo del lavoro e quindi si rischia di perdere un grande patrimonio di competenze e di conoscenze se non si ha a chi trasmetterlo nell'immediato, ovviamente. E quindi diciamo che il tema Generazioni qua in Archivio di Stato verrà declinato, sia appunto come tutto quel patrimonio, anche di valori che sono custoditi nei documenti d'archivio, da trasmettere alle nuove generazioni, ma anche appunto le conoscenze e le competenze acquisite. Una staffetta in forma ibrida in presenza e sui social per ricordare l'importanza del lavoro della sede nuorese. Alla presenza della direttrice Michela Poddigue e dei tre dipendenti dell'archivio, dopo gli interventi delle autorità, si sono susseguiti al microfono archivisti, studiosi e appassionati. La speranza è che queste celebrazioni non restino parola morta, ma che sensibilizzino lo Stato ad investire nell'assunzione di personale giovane, mettendo da parte il precariato lavorativo.